Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della ModCraft Allora, nello scorso episodio abbiamo completato la mod della Twilight Forest E vi ho chiesto, adesso consigliatemi come andare avanti nella Galacticraft Però fermi, prima di andare nella Galacticraft in realtà io devo esplorare un'altra mod Che ho aggiunto praticamente all'inizio della ModCraft Ma che non ho mai esplorato per bene perché era troppo complicata Sto parlando della AbyssalCraft, ovvero la mod degli alieni di Cthulhu Sicuramente se seguite la ModCraft da tanto tempo saprete che appunto il mio mondo All'incirca una cinquantina di episodi fa è stato infestato dagli alieni Da quei lumaconi bavosi che escono sottoterra Adesso vediamo se riesco a trovare uno spawner così ve li faccio vedere per bene magari Eh, ti pareva che non si doveva fare? No, non si doveva fare il giorno proprio mentre uscivo Vabbè non importa, allora qua ci sono i draghi, io non prendo più danno dal sole quindi posso andare in giro anche di giorno L'unica cosa è che vabbè si vede il bordo giallo attorno Allora non li sto trovando ragazzi però sicuramente molti di voi hanno capito di cosa sto parlando In pratica tempo fa ho trovato questo, questa specie di bunker alieno con dei lumaconi alieni che lasciavano della bava per terra E quelli sono gli scagnozzi di Cthulhu Oh ragazzi non li sto trovando da nessuna parte, cioè ve li voglio fare vedere Giusto per fare capire a chi segue la ModCraft da poco tempo di che cosa sto parlando Ma niente, come se fossero spariti da un momento all'altro Piccoli scaggoz, dove siete? Fatevi vedere Ma guarda un po' cosa ho trovato, credo sia la prima volta che trovo questa struttura nella ModCraft Salve, addio Oh, mi ha droppato qualcosa Mi ha dato biogenic chestplate Wow, purtroppo non è roba che dà anche in Minecraft vanilla, altrimenti sarebbe piuttosto comodo Ed ecco qua il bunker alieno di cui vi parlavo io Questi sono gli Shaggot Ovvero gli scagnozzi di Cthulhu Una creatura tremenda che si trova dentro l'oceano È ufficialmente iniziato il capitolo di Cthulhu E la prima cosa che dobbiamo fare è craftare il libro di Necronion Necro... Necronomicon, ecco Il libro della morte È piuttosto semplice, in realtà è soprattutto non mi serve a nulla craftarlo Perché lo potrei prendere tranquillamente dalla Transmutation Table Però voglio fare il rituale proprio come si deve Quindi facciamo così Allora, Rotten Flash, Iron È un libro normale, perfetto Prendiamo Rotten Flash Bene, poi ferro Quindi Iron Ne prendiamo altrettanto E poi un libro Book Normalissimo, tranquillo Perfetto Ora prendiamo la nostra crafting table Se non mi ricordo male era così Poi il libro qua E poi tutto attorno Esatto Ed ecco qua ragazzi Il libro della morte che mi sblocca L'Abyssal Craft Allora, nelle prime versioni della modcraft Prima di questo mondo Perché l'ho riaggiornato tre o quattro volte L'Abyssal Craft si era buggata E io avevo trovato la chiave d'accesso in una cesta Ovvero questa A noi serve questa chiave d'accesso qua Per poter entrare nella dimensione di Cthulhu E scoprire tutti i suoi segreti Ora, come si crafta questa? Ci serve un Oblivion Catalyst Che si ottiene da questo rituale Quindi ci serve un occhio dell'end E poi ci servono delle shard di Oblivion Che si trovano da un Transmutation Gem E delle Shadow Gem Il Transmutation Gem si fa facilmente Devo semplicemente fare una specie di rituale Che ora vi faccio vedere Mentre tutto il resto si trova farmando determinati mostri Che dovrebbero trovarsi qua Più o meno Oh mio dio Che cos'è sto posto? Cos'è? Dove? È un altare Fammi dare un'occhiata Ok, c'è dell'ossidiana Dei libri E basta? Nient'altro? Che strano Il cielo è diventato tutto viola ragazzi Allora Tecnicamente all'interno di questa foresta Dovrei riuscire a trovare Dei mostri Delle ombre Però non ne sto prendo neanche uno Molto strano Ah, perché è giorno Certo, devo aspettare la notte Ok, quindi restiamo qua Nel frattempo ragazzi Iniziamo a leggere il primo libro Perché questo libro effettivamente ci guiderà per avanzare nella modcraft Come vedete ci sono ben tre chiavi diverse Che apriranno tre portali diversi E troveremo diversi minerali Diversi biomi Dovremo fare diversi rituali Come potete ben vedere Il tutto per liberare una nuova dimensione dal suo boss ipercattivo Sapete che la missione della modcraft è liberare l'intero mondo dalla malvagità E adesso posso farlo tranquillamente Visto che ho l'armatura e la spada più potente di minecraft Eh, perdonatemi se sentite il trapano sottofondo Però c'è il vicino che sta trapanando Che ci posso fare? Allora Il primo altare dovrà essere composto da blocchi di cobblestone messi in questa posizione Dopodiché utilizzando il libro della morte spunteranno questi altarini E dovremo mettere questi oggetti al centro Per ottenere la transmutation gem Che come vi dicevo mi serve per craftare l'oblivion catalyst Visto? Con la transmutation gem fai le shard of oblivion E con le shard of oblivion puoi fare il rituale per avere questa Ovvero per sbloccare la chiave d'accesso Molto probabilmente ora vi starete chiedendo Quindi cosa devi fare Kendal? Allora, prima di tutto devo morire e tornare a casa Quindi salve signor re del sole Mi può uccidere per favore? Si dico una mossa se non ci penso io Dai, un po' più veloce forza Ti ricordavo più forte, scusa Ok Un altro colpo dai Bravissimo E ora se non mi ricordo male In uno di questi zainetti qua Io avevo messo Le statuine dell'Abyssalcraft Che inizialmente pensavo fossero inutili Eccole qua Ci abbiamo un bel po' di statuine tra l'altro Non poche Fantastico Quindi mettiamo tutto il resto qua Non mi serve 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 Ok Questo rituale lo faccio nella casa vecchia Da quel che mi è sembrato di capire Devo posizionare queste statuine Più ne hai meglio è Per ricaricare il nostro libro di energia Perché se vedete il libro adesso c'ha 0 su 5000 di punti energia Queste statuine dovrebbero ricaricarlo no? Ah no Io devo trovare soltanto le statue che funzionano Non quelle decorative Queste sono decorative Fatemi vedere Mi sa che queste qua non funzionano perché Vediamo Questa dovrebbe funzionare Ok una va Questa è decorativa la possiamo buttare Questa dovrebbe andare Questa è decorativa E questa pure Ok ne ho due quindi Però tecnicamente queste due dovrebbero funzionare Quindi mi basta tenere il libro qua E dovrebbero ricaricarmelo Man mano che lo tengo Giusto? Quanto è lento il processo? Non lo so io Quindi mi servono 5000 punti esperienza No in realtà non me ne servono 5000 Me ne servono 500 Per andare avanti adesso Quindi se voi non fate nulla Mannaggia io pensavo funzionassero Evidentemente devo trovare un altro modo Dobbiamo trovare un altro bunker alieno Possibilmente uno intatto Non appena lo troviamo proviamo a ricaricare il nostro libro della morte là dentro Questi bunker però sono piuttosto rari nel mondo Inizialmente ne trovavo tantissimi Adesso invece ora che li cerco Ora che ne ho bisogno Non ne trovo più neanche uno Pensa te Oh eccolo Ok qua ce n'è uno Io spero che non sia stato rotto da me in passato Non credo Vediamo Ok ci sono delle statuine Per far sì che queste statue funzionino Devo lasciare quegli alieni Quelle specie di rane lumacose In giro per il mondo E loro creeranno questi altari Queste specie di torri Dove io poi al centro potrò mettere una statuetta E mi darà l'energia Ok Però c'è anche scritto di fare molta attenzione Perché potrebbero infestare tutto quanto il mondo della Candy Craft E in quel caso è consigliabile andare via E evacuare totalmente la zona Venite piccoli alieni Avanzate Riempite tutto il mondo della vostra bava schifosa E create i monoliti per favore Ed eccoli qua ragazzi Si sono finalmente formati i monoliti Quindi tecnicamente queste statuine adesso Dovrebbero rigenerare l'energia che si trova all'interno Del libro della morte Giusto? Ora io non so se li devo scavare o se li devo lasciare qua Perché al momento non stanno facendo nulla Però cerchiamo di farne generare degli altri Da quel che mi è sembrato di capire Devo ottenere questa pietra Che si dovrebbe chiamare Monolith Stone Eccola questa E forse è da qui che devo mettere poi Ah vedi? Eh vabbè allora voi fate schifo Ma veramente schifo Però non mi fate assolutamente nulla Quindi via Andate via Ci ho messo un po' ragazzi Perché per qualche strano motivo sta laggando Però Ce l'hanno fatta Hanno creato due monoliti Ora la mia domanda è Sì sapete cosa? Io mi prendo sia la statua che la pietra Quindi questa è mia Questa è mia Grazie E prendiamoci tutta questa pietra qua Perché secondo me è quella che ci serve Io devo posizionare le statuine su questa pietra No figuratevi se vi lascio andare in giro liberamente Morite Morite Stupide bruttissime creature Alieni Mutanti Venuti da un altro pianeta Per distruggere la mia mod Odcraft Via Adesso mi serve una morte rapida e veloce Drago Dai Andiamo Non fare il cucciolone So che sono molto più forte di te E potrei farti del male Però sono sicuro che ce la puoi fare a uccidermi Ok Abbiamo le statue nei piedistalli Come vedete Mi hanno sparato appena adesso un po' di energia Perché è così che funziona Mi devo trovare all'interno del bioma Della bisalcraft E metterle sui piedistalli In questo modo iniziano a spararmi l'energia Io ho bisogno di 300 punti energia Per creare il mio primo rituale Però lo possiamo già craftare da ora Allora spero che funzioni mettendo il libro anche nella mano sinistra Non ne sono sicuro Prendiamo immediatamente della cobblestone Dopodiché apriamo un attimo il libro E vediamo qual è il primo rituale appunto che dobbiamo fare Qual è la formazione Ci serve la cobblestone Deve essere uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto E uno al centro Ok Quindi uno al centro E poi due blocchi a destra, a sinistra In alto e in basso Molto semplice E poi uno e due Due blocchi Dopodiché uno qua Uno qua Questo è il nostro primo rituale Non appena avremo 300 punti energia All'interno del nostro necronomicon Posso schiacciare con il libro Un blocchetto di cobblestone E tecnicamente dovrebbe diventare così Abbiamo prima bisogno di ottenere 300 punti energia Quindi per favore Statuine di Cthulhu Datevi una mossa Ricaricatemi tutta l'energia negativa Così posso andare avanti Grazie Però mi sta avvenendo un dubbio Secondo me Devo ricoprire Tutto qua attorno di cobblestone Così da non avere problemi poi in futuro Tanto vabbè ragazzi Ce l'ho praticamente gratis la cobblestone Altro che la palla dell'infinito A che mi serve quando c'ho il piccone Che scava più veloce della creativa Ah comunque Nello scorso episodio vi avevo detto Che c'è anche l'ascia dell'infinito Ed eccola qua La Nature's Ruin Quindi la rovina natura E si crafta in questo modo Però io non sono molto convinto Che siano utili Cioè ovviamente le crafterò Oh 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 Che è successo? Ok Non lo so Dicevo ovviamente le crafterò Perché io voglio collezionare Tutte quante le armature dell'infinito Quindi spade Armi Tutto 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 Quindi ho bisogno anche di quello Però Io non credo che siano così potenti Il mio piccone Basta e avanza Secondo me Poi magari mi sbaglio eh Oh Ha funzionato Ci ho cliccato per sbaglio Ma ha funzionato Ma Beh io non avevo ancora 300 punti Esperienza Beh ragazzi Ecco gli altari Per il nostro rituale Adesso cosa devo fare? Fatemi vedere Quindi devo 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 mettere Diamante Blaze Powder Ender Pearl Blaze Powder Diamante Ok 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 Quindi diamante Blaze Powder Ender Pearl Grazie alla Transmutation Table Non sarà un problema Prendiamo Ender Pearl Poi Blaze Li facciamo diventare Powder Più tardi E diamante Prendiamo direttamente un blocco Tanto chissene Da quel che mi è sembrato di capire L'ordine non è importante Quindi li puoi mettere in un ordine sparso L'importante però è che li metti bene Però noi lo metteremo in ordine giusto Quindi diamante Blaze Powder Quindi diamante Blaze Powder Blaze Powder Poi Ender Pearl Ender Pearl Ok Ender Pearl Ender Pearl Blaze Powder Blaze Powder E poi diamante Ok molto bene Come vedete adesso ragazzi Ho piazzato tutti quanti gli oggetti Ma come potete ben notare Ne manca ancora uno Che sarebbe questo Il Corallium Pearl La perla di Corallium Questa qua Non ho la minima idea di dove si può Si possa trovare Quindi la dovremmo ancora cercare Però direi che adesso Il nostro rituale è quasi completo Mi manca la perla del Corallo Da mettere al centro E dopodiché Dovremmo riuscire a ottenere La chiave delle dimensioni Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Finalmente è iniziato il nuovo capitolo E la mod dell'Abyssal Craft Quindi la mod di Cthulhu e degli alieni Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao